Per presentare la 53esima stagione concertistica organizzata dall'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, il servizio. Dal Teatro Orfeo di Taranto per parlare della 53esima stagione concertistica. C'è stata una conferenza stampa questa mattina, 75 anni e li porta molto bene, in grande salute. Gli Amici della Musica Arcangelo Speranza festeggiano in maniera del tutto particolare il 75esimo compleanno di questa associazione che ha dato veramente tanto alla cultura tarantina. Mi piace ricordare che quest'anno appunto con un tipo particolare di stagione concertistica si darà spazio anche a musica jazz e musica contemporanea, così come richiesto dai tarantini. E allora, tanto per dirne una, I Sing Ancora di Nicola Arigliano, sì proprio lui, quello di Buonasera Signorina, 20 km al giorno ogni volta, arrivederci, I Sing Amore e Amorevole. E poi vi segnalo lunedì 9 dicembre, omaggio ai Beatles con Ilio Barrontini, ma ci sarà ancora anche il concerto di Mussolini, grande pianista jazz. Insomma, una stagione molto interessante al direttore artistico Paolo Ruta. Io ho parlato delle cose che conosco meglio, parliamo delle cose più difficili. I inaugurazione alla grande quest'anno, come ormai è tradizione da tre anni a questa parte, inaugureremo con la Quinta Sinfonia di Beethoven, una delle più belle sinfonie scritte da questo grande compositore. Sarà eseguita dall'orchestra Giorgenescu di Bucharest, qui allo Teatro Fede, un'orchestra di Sekalov, vincitore dell'Oscar per la colonna sonora del film Il Postino. E poi ancora ci sono tantissimi nomi, il grande pianista Paul Badurascoda, Joshua Bell e Jean-Yves Thibaudet, violino e pianoforte e Stefan Milenkovic. Insomma, tanti grandi nomi. Per concludere, il grande attore e cantante Paolo Poli, accompagnato al pianoforte da Antonio Ballista. Bene, grazie. Allora, prima di fare una dovuta domanda all'assessore agli spettacoli della provincia di Taranto, Banni Longo, io ricordo che gli abbonamenti sono in vendita presso Box Office in via Anfiteatro 228 e Basile Strumenti Musicali in via Matteotti 14. Allora, assessore Longo, 75 anni li porta bene, è un grande contributo alla cultura tarantina. Mi sembra che l'unione tra chi realizza cultura e un ente locale sia quanto più proficua. E' certamente doverosa da parte dell'ente locale cercare di appoggiare moralmente intanto e essere vicini anche materialmente nella promozione, nella organizzazione di questi eventi spettacolari ma culturalmente validi. E' un binomio del quale la città, il territorio non può fare a meno. L'associazione Amici della Musica da 75 anni opera in questo settore ed opera molto bene, diciamo, regalando, ecco nel senso più vero della parola, a livello di impegno, regalando tutto un certo impegno per organizzare una serie di spettacoli validissimi. Lo abbiamo visto già nelle stagioni passate, nella presentazione del cartellone di quest'anno si è fatto un lavoro di alto pregio che certamente va tenuto in debita e a considerazione. Tutti sappiamo quanto sia importante la musica nel momento formativo degli studenti, quindi un momento per pensare alle scuole è una notizia che ci fa pensare. Pensate, il liceo musicale di Taranto ancora una volta non è presente con dei propri abbonamenti, forse si tratta soltanto di sensibilizzazione. Speriamo.